Amici di FanoTV, buon pomeriggio da Sergio Catalani che vi parla dallo stadio Angelini di Chieti dove sta per avere inizio la penultima fatica dell'Alma Juventus Fano, ultima in trasferta qui in terra abruzzese tra l'Alma Juventus Fano e il mister Alessandrini, oggi è squalificato peraltro e sostituito da Giulietti e il Chieti. Borrelli in avanti, c'è Gucci intanto, Gucci, 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 Nicolò, Gucci e va ad esultare sotto la curva granata, il gol di Gucci. C'è Rapino che pesca, attenzione, Prinari, Entenari, anzi è Orlando, ancora Orlando, verso Del Grosso, il cross di Del Grosso, il colpo di testa, il gol. Segna Broso, il gol del Chieti al quinto minuto. Sartori, ma è solo, Sartori, ancora il tiro di Sartori, la parata, la parata di Placidi. Borrelli il tiro, la palla che colpisce l'incorso dei pali, incredibile. Intanto il traversone, Ginesta si deve allungare per dire no a un colpo di testa schiacciato da parte di Broso. Vanno in ava scoperta, parte Borrelli, l'etavessone, c'è Torta e c'è il gol! Andrea Torta al 94esimo, proprio in chiusura, è l'esultanza tipica di Andrea Torta, così come fece Amatelica. Il Fano è secondo, prosegue la sua marcia senza sconfitte. Sbanca anche Langerini, finisce qui 2-1 con un po' di polemiche.